Innanzitutto, consentitemi di fare una brevissima riflessione sul libro. Il libro è ben scritto, affronta, come diceva adesso il direttore di Bella, questioni cruciali nella vita delle persone ed è scritto da Presidente Soro, che è il presidente dell'autorità garante della privacy. Il presidente Soro è un medico e tuttavia affronta queste questioni con una profondità, una capacità, una conoscenza assolutamente straordinaria. Una volta c'era un pochino questo vezzo, che se uno era medico non doveva occuparsi della sanità, se uno era ingegnere non doveva occuparsi dei lavori pubblici. Ora naturalmente tutto quanto molto è cambiato, come è evidente. E tuttavia l'idea che a un certo punto uno che si è formato e che ha una solida formazione in un campo possa occuparsi di un altro campo è probabilmente qualcosa che rende più forte la capacità della conoscenza. Perché ci mette un elemento che è quello della curiosità, del conoscere e non considerare la questione troppo una questione sulla quale ci si è per lungo tempo cimentati. Si mette in campo, cioè un punto di vista esterno. E se ci pensate bene, è un po' quello che a un certo punto parlando del teatro, Bertolt Brecht, la teoria della stranazione, cioè di uno che sta fuori. Ecco, il presidente Soro in questo libro affronta la questione con una conoscenza specifica molto forte, ma non con la qualità del tecnico. Perché il tecnico è portato ad essere a volte particolarmente corrivo con i problemi che la tecnica produce, perché si sente in qualche modo protagonista. Io ho una lunga conoscenza con il presidente Soro e tuttavia non posso mai dimenticarmi il coraggio che lui ha avuto ad un certo punto, quando qualche anno fa io mi occupavo dell'intelligence per il nostro paese, mi invitò a concludere il dibattito nella giornata europea della privacy. Insomma, in altri momenti il garante della privacy ci avrebbe pensato cento volte, c'è il dottor Spadaro, perché insomma nel giorno della giornata della privacy europea, fare parlare quello che è la responsabilità dell'intelligence, in qualche modo è come affidare le pecore al lupo, è come mettere una volpe nel pollaio. E io ho apprezzato moltissimo, invece il coraggio che il presidente ha avuto, tra l'altro eravamo in una fase particolarmente delicata, nella vita dei grandi continenti, in particolare del rapporto tra Stati Uniti ed Europa, non so se vi ricordate, era esplosa da poco la vicenda di Snowden, quando a un certo punto è apparso con evidenza che ci poteva essere, forse c'era stato, anzi c'è stato, il fatto che alcuni paesi sorvegliavano in maniera abbastanza intensa a paesi che erano paesi amici. A testimonianza che in un mondo che potremmo definire con un pizzico di ottimismo multipolare, che potremmo definire con un pizzico di realismo apolare, nel campo dell'intelligence esistono paesi amici che non necessariamente sono sempre e comunque alleati, esistono paesi alleati che non necessariamente sono sempre e comunque amici. Nel senso cioè che viviamo in un mondo in cui la cooperazione è insieme sempre pensata come un elemento di fortissima competizione e il dato della conoscenza è un elemento assolutamente fondamentale. Chi conosce sa, chi sa conta, chi non conosce e non sa, conta relativamente poco. Posso dirvi una cosa semplicissima, questo è un campo nel quale è difficile andare avanti per raccomandazioni e soprattutto posso aggiungere un'altra cosa che alla fine se uno bleffa viene scoperto. Si può far finta di sapere, si può far finta di avere conoscenze ed informazioni ma alla fine se uno non ha la concretezza del dato finisce per, tra virgolette, essere rapidamente preso con le mani nella marbellata. E qui tuttavia si pongono due grandi questioni. La prima questione che è stata posta con grande forza dal direttore di Bella è cioè che a un certo punto, e se ci pensate bene anche questo è il cuore della vicenda di Snowden, a un certo punto di fronte alla sfida drammatica del terrorismo globale, di fronte al fatto che ci si trovava di fronte ad una minaccia veramente straordinaria nel senso che usciva fuori da qualunque canone ordinario, di fronte al fatto che tu avevi per la prima volta nel 2001 realizzato quello che era stato per lungo tempo lo slogan del maggio francese, io non so di chi voi se lo ricorda, c'è uno slogan straordinario del maggio francese che era appunto questo, compagni siate realisti pensate l'impossibile e nell'11 settembre del 2001 Al-Qaeda era stata realista pensando appunto l'impossibile e cioè l'idea di colpire, ah no non pensavo che fosse un biglietto a me, no no, mi stavo immediatamente uniformando perché sono una persona disciplinata, se non gli passo un biglietto io l'avrei immediatamente letto e cercato di dare immediatamente una risposta. Era, siate realisti pensate l'impossibile, cioè tutto quello che appariva come impossibile era stato di fatto realizzato ed era talmente impossibile che quando all'intelligenza americana giunse qualche notizia sulla possibilità che c'era un gruppo di terroristi che si stava addirittura addestrando per prendere il bevetto di pilota con l'idea non di dirottare un aereo ma di prendere un controllo dell'aereo e farlo diventare una bomba da utilizzare contro obiettivi fissi, la stessa intelligenza non ci credeva, la sottovalutò, pensò che non fosse una cosa impossibile. Ecco, di fronte a questa minaccia così radicale che poi si è perseguita nel tempo con l'evoluzione d'Al Qaeda Islamic State si è a un certo punto ragionato su un elemento e cioè se si vuole essere sicuri bisogna ragionare su uno scambio tra sicurezza e libertà. Ora la questione è una questione non soltanto posta negli Stati Uniti, è posta più in generale nel mondo, è posta in Italia. Diciamoci le cose con una certa franchezza, questa è anche un pochino la discussione che stiamo facendo adesso. Sarebbe da parte nostra non sincero non dirlo fino in fondo. Io penso personalmente che su questo terreno non ci possa essere dubbio alcuno, questa è la mia idea. E cioè che in una democrazia non è possibile in alcun modo uno scambio tra sicurezza e libertà, per una ragione semplicissima. Perché se una democrazia accetta questo scambio viene meno ad un principio fondativo della ragione d'essere di una democrazia. E nel momento in cui si dice diminuiamo la libertà per aumentare la sicurezza, di fatto si dà una ragione ai terroristi. E cioè i terroristi pensano che il loro attacco debba servire per snaturare le nostre democrazie. La forza di una democrazia è combattere il terrorismo senza perdere se stessa. Ma tutto questo non è una formulazione di principio. E' un dato un pochino più concreto. E cioè nel senso che in Italia lo abbiamo fatto. Ora naturalmente io continuo sempre a incrociare le dita. E tuttavia noi siamo un Paese che ha affrontato la sfida del terrorismo. Non ha messo in campo leggi eccezionali. Non abbiamo prodotto sospensione alla democrazia. E tuttavia fino al momento in cui stiamo parlando abbiamo avuto una capacità di prevenzione e di contrasto. assolutamente efficiente. L'abbiamo fatto, cioè tenendo un principio che io considero fondamentale. E cioè che una democrazia non può mai abidicare alla sua idea di società aperta. Anche questo è un tema particolarmente importante in queste ore ed in questi giorni. Per renderlo ancora più esemplificativo si può passare dal controllo delle persone al dato che si controlla in maniera militare il territorio. Sia il controllo delle persone, sia il controllo delle comunicazioni, sia il controllo del territorio. Fanno delle nostre società società chiuse. Le società chiuse non è vero che si difendono meglio. È una illusione. Le società chiuse sono più fragili e più temboli. Lo dico con la convinzione di chi su queste questioni si è cimentato anche nel rapporto con coloro che gestiscono e che sono i protagonisti della grande vicenda della comunicazione sul web. E vedete, e poi vado rapidamente alla conclusione, noi abbiamo avuto di fronte una minaccia di carattere terroristico che ha messo in campo archetipi molto antichi sul terreno della convivenza, delle idee di rapporto di società. E tuttavia ha avuto la capacità di muoversi nella modernità come un pesce nell'acqua. Se qualcuno oggi mi chiedesse, da ex ministro dell'interno, da ex responsabile dell'intelligence del nostro paese, quanto è ampia la rete di Islamic State del mondo, io dovrei rispondere con una risposta che può apparire sibillina, ma sibillina non è, e che Islamic State non sa nemmeno essa quanto è larga la sua rete nel mondo. Cioè, può sembrare una risposta particolarmente opaca o forse addirittura confusa, ma è la pure semplice verità. Islamic State ha costruito un veicolo di reclutamento, di fidelizzazione, di emulazione e di assistramento attraverso il web. L'ha fatto utilizzando nella maniera più scientifica possibile tutti quanti gli strumenti, guardate, io ricordo ancora oggi, non so quanti di voi ricorderanno, ma nel momento in cui ci fu quel sequestro di persone a Dhaka, in Bangladesh, in quel ristorante, poi morirono nuove nostre connazionali. Beh, la cosa più importante e più drammatica che lì è avvenuto è che mentre quel ristorante era circondato dalle forze di sicurezza del Bangladesh e mentre si aspettava da un momento all'altro che ci fosse l'irruzione per neutralizzare il compound e neutralizzare il gruppo terroristico, i terroristi in rete agirono per immediatamente propagandare quello che stavano facendo dentro il ristorante. Prima ancora che si avesse notizia dell'evento, in rete c'erano le immagini di quello che stava avvenendo dentro il ristorante. E siccome Al-Adnani, che allora era il ministro della propaganda di Islamic State, aveva pronunciato la frase «Affogheremo il Ramadan nel vostro sangue», le immagini che giravano in rete erano esattamente quelle. C'erano le immagini di queste persone, una per una sgozzate e letteralmente il pavimento del ristorante era, tra virgolette, annegato nel sangue. Cosa ci dice questa vicenda? Ci dice che per il terrorismo l'evento terroristico e il racconto dell'atto terroristico sono pari. Cioè è importante sviluppare un attacco terroristico e contemporaneamente è importante e il più possibile è importante raccontarlo. Perché raccontarlo, renderle visivamente alle immagini crea insieme radicalizzazione, emulazione, in qualche modo insegna come fare le cose. Ecco, di fronte a questo tipo di sfida ci siamo posti un problema che si pone anche Antonello nel libro. Io l'ho vissuta in prima persona. E cioè il punto qual è? È possibile che Internet, che è il luogo per miliardi di persone della libertà, possa rovesciarsi improvvisamente nel suo posto, e cioè nello strumento che viene utilizzato per trasmettere la privazione massima della libertà, che è la cancellazione di una vita. È possibile. Come si fa per evitare tutto questo? Cosa si può fare per evitare tutto questo? Allora qui ci sono due prospettive. La prima prospettiva è quella di un intervento di carattere legislativo. Si fanno leggi. Guardate, io su questo tema confesso la mia prudenza. Io su temi di libertà e su temi che hanno, per esempio, una caratteristica come quella dell'intervento sulle religioni, io sono particolarmente prudente. Penso, per esempio, che sulle religioni convenga fare dei patti con le religioni, studiare insieme un percorso di reciproco, comune modo di cooperare. Perché fare una legge sulla religione rischia di produrre quella che Wundt chiamava l'eterogenesi dei fini. E cioè uno fa una cosa con un obiettivo e ottiene esattamente il risultato opposto. Su questa questione di Internet è possibile fare delle leggi? È evidente che per fare delle leggi bisognerebbe fare delle leggi che abbiano quantomeno un orizzonte di una larghissima cooperazione internazionale. Ma io aggiungo, è possibile prima dell'intervento legislativo ragionare. E con coloro che hanno in mano questa partita, per vedere se è possibile, prima dell'intervento legislativo, costruire una cooperazione positiva. tra i governi, gli stati e coloro che garantiscono la privacy e i provider che agiscono concretamente su queste questioni. Qual è lo stato dell'arte? Quello che prima pareva una cosa da rifiutare a prescindere. Guardate, quando a un certo punto i governi chiamavano i grandi provider, era quasi difficile addirittura parlarci. Cioè l'idea che a un certo punto qualcuno che gestiva, protagonista di questa partita, potesse incontrarsi con un governo appariva in sé come una limitazione. Basta pensare al drammatico braccio di ferro che c'è stato tra le istituzioni americane e alcuni provider per quanto riguardava l'uso di informazioni del tutto importante e necessarie per quanto riguardava la sicurezza nazionale. E tuttavia, l'elemento qual è? Una tutela, magari straordinaria, su questo terreno dal punto di vista formale e poi, come abbiamo visto, un saccheggiamento informale dei dati personali. La cosa che più mi ha colpito e mi colpisce è la polarizzazione di questi due fatti. Se c'è da tutelare un dato formale siamo rigidissimi fino al punto da negare informazioni fondamentali per la sicurezza nazionale. Se poi c'è invece da trasferire dati per saccheggiare o consentire a ciascuno di farsi magari qualche banca privata per gestire sia il consenso sul terreno politico sia sul terreno del mercato, in quanto tale si è magari un pochino più laschi. Gli abbiamo invitati a Dischia, al G7 dei ministri dell'interno. Per la prima volta sono venuti. C'era Microsoft, c'era Google, c'era Facebook, c'era Twitter. E' stata una discussione molto impegnativa. All'inizio sembrava che ci fosse incomunicabilità, poi alla fine si è incominciato a fare un passo dopo passo. Poi ci siamo visti a Toronto, al nuovo G7 dei ministri dell'interno. E' possibile costruire una cooperazione? A mio avviso sì. Io penso anzi che sia fondamentale, si sono fatti dei passi in avanti, per esempio quello relativo al blocco automatico ed immediato rispetto ad alcuni contenuti, alla cancellazione per alcuni contenuti. Sentendoli a Toronto, noi abbiamo avuto circa, se non vado errato, non voglio dire una cifra non precisa, circa 190.000 interventi di blocco automatico sul web per contenuti considerati tra virgolette favoreggiatori del terrorismo. La cosa più importante, sapete qual è? Che circa il 90% di quegli interventi non sono avvenuti attraverso segnalazioni di forze che fanno riferimento all'intelligence, all'enforcement. Sono intervenuti per una capacità di autoprotezione diretta dei provider. E questo è un elemento che io considero molto importante. Perché vuol dire che si è acquisita una consapevolezza maggiore, cioè si è acquisita un dato elementare. E cioè che di fronte alla sfida e alla minaccia del terrorismo c'è un punto fondamentale che tiene insieme i governi e i grandi provider. E cioè l'elemento delle libertà. Se ci pensate bene, ci si pensa bene, i terroristi vogliono privare le democrazie della loro libertà. I grandi provider senza libertà, tra virgolette, vengono anch'essi compiti al cuore. Ci può essere, tra virgolette, una non convenienza economica. E tuttavia c'è una straordinaria convenienza di strategia e di profitto intellettuale. Infine, consentitemi di finire con due brevissime considerazioni. Il punto cruciale del libro è un capitolo che il Presidente Sorot intitola è un equilibrio difficile ma necessario. E' il tema del governo delle situazioni complesse. E' possibile lasciare tutto quanto all'andamento naturale delle cose? Il Presidente Sorot decidi no. Naturalmente sa perfettamente che stiamo discutendo di questioni delicatissime. Ed è appunto per questo l'equilibrio è difficile. Ma l'equilibrio è difficilissimo, ma è altrettanto necessario. E lo diciamo nel momento in cui, come si è visto con Cambridge Analytica, può succedere esattamente un principio di rovesciamento. E cioè che il luogo principe della libertà diventa un luogo del condizionamento del pensiero. Noi sappiamo perfettamente che il principio del rovesciamento purtroppo è immanente in tutte le cose che l'uomo fa. Poi più complesse e più raffinate queste cose sono, più è facile che questo possa avvenire. Il filo è veramente sottilissimo. Ed è per questo che è importante che ci sia insieme un equilibrio difficile, ma che l'equilibrio debba essere a tutti i costi garantito. Infine ho concluso. Vedete, se ci pensiamo bene, noi abbiamo di fronte un grande tema, ed è lo sfondo sul quale si muove il libro del Presidente Sorot. E cioè lo sfondo è esattamente questo. Qual è il rapporto tra scienza ed etica? È necessario mantenere sempre un rapporto tra scienza ed etica? Io penso decisamente di sì. Non ho mai creduto a un'idea della scienza che sia del tutto sganciata da un principio etico. La separazione di questi due temi, il conflitto tra questi due temi, porta a soluzioni perniciose per l'umanità. È un tema antico che a un certo punto ha trovato, per esempio, una discussione particolarmente impegnativa tra due grandi personalità del mondo della scienza contemporanea. Uno era Alan Turing. Alan Turing è quello che ha scoperto e ha decifrato il codice Enigma. Ricorderete, durante la Seconda Guerra Mondiale, era il codice che consentiva ai tedeschi di trasmettere, attraverso un cifrato, i comandi alle unità che operavano nell'Atlantico, ai sommergibili che operavano nell'Atlantico. A un certo punto gli inglesi vengono in possesso della macchina, ma non riescono a capire cosa c'è in quella macchina. Alan Turing ci lavora su, con un gruppo. Alla fine trova la soluzione. E arriva ad un punto che, tra virgolette, incomincia ad accarezzare veramente l'idea della superiorità, della intelligenza artificiale sulla intelligenza umana. È una discussione che lui ha avuto qualche anno prima con Wittgenstein. Wittgenstein era un grande matematico. E c'erano su questo posizioni un pochino differenti. Alan Turing, come voi sapete, finì drammaticamente. Finì drammaticamente, talmente drammaticamente, che il Regno Unito, che non è solito, chiedere perdono. Molti anni dopo, chiese perdono per quello che era avvenuto. Il salvatore del Regno Unito, il salvatore delle grandi democrazie occidentali, era stato poi perseguitato e perseguitato drammaticamente per le sue tendenze sessuali. E finì così, drammaticamente, una storia che aveva illuminato il mondo. Era, sì, un'altra epoca. E tuttavia fu una ferita difficilissima, ed è ancora tutt'oggi, una ferita difficilissima da poter rimarginare. E tuttavia, pur sostenendo quello che Alan Turing ha fatto per l'umanità, pur considerando assolutamente incommensurabile il contributo che lui ha dato allo sviluppo della conoscenza, della intelligenza umana, appunto perché la penso veramente così, e appunto perché c'è stata quella sua drammatica fine di fronte al quesito che Alan Turing se li ha posto. L'intelligenza artificiale può, a un certo punto, dominare la intelligenza umana? La mia risposta, naturalmente, con il beneficio di una conoscenza limitata è no. Io non mi assegnerò mai in un mondo, ad un mondo, in cui l'intelligenza umana sia, tra virgolette, una variabile della intelligenza artificiale. Questo è il cuore delle questioni che abbiamo di fronte, questo è il cuore che con straordinaria passione, pazienza, conoscenza, capacità di leggere cose difficili con estrema capacità di comprensione, il Presidente solo ci ha consegnato. ed è per questo che penso che sia un libro prezioso e uno di quei libri che una volta scritti è bene che il lettore non solo lo lega, ma lo porti con sé perché può diventare uno strumento per orientarsi in un mondo che è sempre più difficile da essere compreso. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti